Ciao Giovanni e ciao bambini, lo so che la giornata dei calzini spaiati è già passata ed era il venerdì 4 di febbraio, ma a noi piace moltissimo questa giornata perché riteniamo che Radio Mu sia proprio lo spazio adatto per accogliere tutte le forme di disabilità, di diversità. Insomma, Radio Mu è un posto di accoglienza per tutti, grandi e piccoli, così come ci ricorda poi anche Lollo nel video che abbiamo preparato, non solo i bambini e gli adulti con disabilità, ma tutti, proprio tutti, perché riteniamo che sia il momento di valorizzare l'unicità di ciascuno, come si dice adesso, che non vuol dire però individualismo. Quindi a lei e i calzini spaiati! Ciao ragazzi, ricordatevi di mettere i calzini spaiati domani. E' importante per i bambini speciali come me.